Siamo proprio smontando tutto. Ok, anche lui non viene via perché c'è il motore. In mezzo al cazzo. Con i due cacapstan. Diverticolatore. Con il diverticolatore possiamo farlo, sì. Però bisogna di recuperare questa. Allora devo usare, ma attenzione agli occhi. Con sapienti colpi possiamo anche ottenere una bicicletta strana. Abbiamo recuperato una maniglia troiesca. Sempre Dio che ci mette alla prova. Dio! Dio! Quel bas... La situazione è sempre solo atroce. Va bene. Queste sono delle cagate. Nel magazzino delle cagate lì. Questo non serve un cazzo. Questa non serve una minchia. La maniglia per attaccarci al tram. La teniamo lì. Ottone, ottone! Qua abbiamo delle testine. Ai! Potremmo conservare il cacapstan. Sti cazzi. E' una troiata. Molto particolari queste viti. Hai visto che punta? Strana. Come si fa? Vaffanculo! La porta per... Immagina, per ungere. Sì, sarebbe la porta per ungere se non fosse ricoperta di sterco. C'è già dello sterco, quindi... Esatto, è chiusa, è tappata. Usiamo la violenza chimica. Il pulisce i contatti. Ah, ecco, c'è un pirlo. Ed ecco che l'abbiamo pulito. Perfetto. Così questo si mette così. E lui si diverticola. Alè! Questa roba è inutile. Ora, qui abbiamo... Eh no, ma qua dobbiamo mettere le mani sull'alimentazione, qui. Perché non è possibile. Questo, chissà che cazzo è. Non si capisce proprio. Poi... Qui è un condensatore. Questo, adesso non sappiamo più da dove viene. Ma questo è un reostrato, guarda che roba. Con il filo, è a filo. Non sappiamo più come alimentare questo coso. uscita audio. Però hanno avuto la splendida idea di avvolgerci questi fili a cazzo. Totalmente a cazzo. Temo che dovremmo cercare lo schema elettrico di questo coso. Questi andavano nelle zone motori, se non ricordo male. Quindi probabilmente potremmo anche fottercene. Questo non si sa, questo non ricordo, ma qui abbiamo questo. E questo si è staccato. Tutti li hanno attorcigliati questi cazzifili. Tutti. Quindi questo è qua. E questo effettivamente esce dal trasformatore. Questo qua. Ma a me dispiace questo. Allora, questo mi sembra un ponte di odio al selenio un po' strano. Ah, c'è pure scritto, finalmente. B25C100. B250C100. Ingresso alternata. Qui. Oh, così abbiamo l'ingresso dell'alternata. Però l'ingresso dell'alternata è su questo e su questo. Questo è un negativo. Alternata positivo. Alternata negativo. Negativo qui, negativo qua. Questo non so che cazzo è. Positivo nero. Qui. Alternata qua e qua. Ah, ah, ah. La mia domanda è come gli arriva da qui. Io presumerei che questi siano i filamenti. e che invece questa sia uscita in alta tensione. Questo ho deciso improvvisamente che non mi serve. E questo nemmeno. Questi due sono così. Continuo a non capire però dove entrare con la 220. Questo è un condensatore di filtro. È il momento di odio. Ho staccato la cosciente così noi non muoriamo. Perché ora creerò il cavo della morte e infilando questi coccodrilli all'interno di queste vedete queste cose qui. Non fate mai questa cosa perché non va mai fatta. Io sono un professionista e lo faccio. Ma voi non fatelo mai. Mai perché si muore. Si muore perché qui c'è la 220 volt. Ed è la 220 volt che io collegherò qui perché abbiamo intuito probabilmente errando che questo è l'ingresso del trasformatore che genererà no no, così genererà le tensioni utili al nostro sistema valvolame. Al nostro valvolame. Ora con altri due cavetti della morte mi attaccherò al mio tester di rosso. In effetti ci vorrebbe il nero. Abbiamo seguito un po' il circuito di questa radio a valvole del cacchio e abbiamo intuito dove potesse essere l'ingresso della 220. Qua ci sono ingressi per 110 160 220 addirittura credo 260. Abbiamo intuito che questo nero non utilizzato era il 260. E quindi abbiamo visto grigio 220 e noi grigio 220 eccoci qua grigio 220 dovrebbe accendersi la lampadinetta perché presumiamo questa sia un'uscita per la lampadina strano che non sia sui secondari che sono qua e che dobbiamo misurare cosa cazzo esce da qui cosa che faremo tramite questi coccodrilli di morte. ora tutto è pronto qui andiamo in alternata e a questo punto io ficcherei la spina con rischio di esplosione. allora questa la posso mettere vado vado la lampadina si è accesa il che è un buon segno cosa indica? 8 volt come 8 volt ah ok spengo però ci siamo 8 volt è compatibile con una filamentazione con un filamento quindi probabilmente sì ha senso perché i filamenti consumano molto come corrente qui quindi qua possiamo tirare un paio di ampere allora questa è la l'alta tensione in uscita la nodica cosiddetta che ci servirà per far funzionare le valvole vediamo cosa esce vado quanto? 250 vedi siamo a 250 quindi abbiamo una nodica di 254 addirittura bene molto bene che raddrizzata fa circa 300 è qualcosa 250 per uno 254 per uno e 41 quanto farà? più la metà circa 250 più la metà di 250 più quindi 370 minchia si può dire minchia sì minchia quindi una bella tensione raddrizzata bene molto bene a questo punto abbiamo abbiamo della beltà stiamo per produrci in un esperimento scientifico mai visto prima e cioè io entro qui con la mia 220 attraverso la morte nera e ottengo in uscita 254 ok ma se io entro qui dove c'è il cavo blu dove dovrei avere 140 o 160 volt e gliene mando 220 siccome lui è fatto per tirar fuori comunque un'uscita stabile fissa in base a dove mi attacco al cazzo se io qua entro con 220 invece che 160 io qui dovrei trovarmi 300 e qualcosa volto invece di 250 giusto? possiamo fare il conto il calcolo con la legge del trasformatore Marti e sto misurando anche la la resistenza dell'avvolgimento guarda perché questo è questo è che si è piantato ma che cazzo è? ah certo sto misurando l'uscita coglione che sono va bene io devo misurare la tensione adesso tensione alternata AC AC bene quindi faremo questa cosa noi entreremo con la 220 sulla presa che invece vorrebbe circa 150 volt ok? questo può voler dire che brucieremo questa lampadina ma ce ne sbattiamo per amore della scienza tagliamola no no va bruciata va bruciata vado e vediamo cosa esce da lì se scoppia tutto ah 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 vediamo 343 volt come immaginavo vedi? però contestualmente a me dovrebbe salire tutto ora dovrei avere circa 12 o 10 volt qui infatti ne ho 10,87 quindi abbiamo detto che qui ne abbiamo 350 344 wow allora adesso mi segno la tabella la tabella fecale quindi 220 mi la tira fuori 254 questo mi la tira fuori 343 344 sono curioso adesso se io entro però hai barato qui ti hai dato 140 si gli do 220 quindi hai diversi ora al volo io entro eh ma lei secondo me rischiamo di bruciare la lampadina eh lo so però la scienza mettiamogli qualcosa in serie no 447 volt e spengo subito 447 volt molto bene potremmo provare il nero a questo punto non abbiamo capito che cos'è questo giallo quindi adesso farò la seguente io entrerò normale e vediamo se su questo giallo misuriamo la tensione però sembrerebbe un primario che cosa ci sono qui come diciture allora qui abbiamo 110 125 140 160 220 2 e 280 e 0 ah ah dici e ac andiamo in autoreng vaffanculo perfetto adesso faremo questo esperimento entreremo invece che entreremo su questi non utilizzati abbiamo un nero la cui misura di resistenza è 44 ohm contro i 120 dell'ingresso della 220 quindi qua arriveremo sui 500 volt secondo me nell'uscita abbiamo scollegato la lampadina perché se no si brucia e quindi adesso io in un istante mi collegherò in un istante mi collegherò e vedremo scoppiare tutto 516 volt ma hai sentito come quindi secondo me abbiamo beccato un'esagerazione si 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 quant'erano 519 volt vediamo 514 però scende non mi piace un uso improprio forse un uso improprio 514 volt vogliamo provare col giallo un attimo si ma tanto quello critico era il nero e no il giallo ancora meno è 39 ohm e quello quanto era? 44 rischiamo di fare il botto per un attimo proviamo per un attimo 535 poi secondo me satura forse per questo scendere chi lo sa 535 però quelli sono non concepiti come primari e però non ha senso cioè forse con le tensioni più basse magari come in un punto forse con la 220 che poi siamo a 230 noi ad essere precisi quindi 2 e 30 fatto sta che abbiamo comunque intuito che il giusto è questo e che mi tira fuori i 250 e infatti mi tira fuori i 250 belli puliti molto bene molto bene bravo altro esperimento scientifico fare esplodere un motorino e vedere se gira gira e la lampadina non si accende nemmeno quindi non sta assorbendo praticamente nulla il che vuol dire secondo me che possiamo benissimo fare la seguente possiamo scollegarci qua e lui e lui gira più veloce era a 220 si silenziosissimo si potrebbe fare un ventilatore della madonna super silenzioso quindi magari puoi tenerlo per la seguire per la seguire la nuova per la seguire Grazie a tutti